Dal 1954 al servizio delle imprese della mediazione è lo slogan della FIMA, la Federazione Italiana Mediatori e Agenti d'Affari, che ha scelto Napoli per quelli che vengono definiti stati generali della mediazione. Si tratta della più grande federazione del settore dell'intermediazione in Italia, con oltre 14.000 imprese associate per un totale di oltre 45.000 addetti, che da 70 anni opera a fianco degli agenti mediatori italiani. Scopo principale del suo operato è ricercare sempre uno strumento di risoluzione delle controversie civili e commerciali. Tre giorni a Napoli dedicati a una professione che si interfaccia con i risparmi e i sacrifici di una vita. Ascoltiamo le parole del presidente FIMA Santino Taverna. Una tre giorni importante che ci permette di fare un po' il punto della situazione, anche per quanto riguarda la stasi che stiamo vivendo per l'economia del paese. Teniamo presente che gli immobili in Italia che devono essere riqualificati da Stimeistat. Si parla di circa 12 milioni di immobili. Ad oggi sembrano che siano stati riqualificati 500.000 immobili, quindi la strada per correre è ancora lunga. Siamo passati dalla rappresentanza economica nelle città, la rappresentanza economica dei territori. E il commento di Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, che poi ha sottolineato l'importanza della riforma fiscale, soprattutto per quanto riguarda i consumi. I consumi, come giustamente ricordava lei, i poc'anzi, che tra l'altro costituiscono il 60% del PIL, devono essere rafforzati, soprattutto attraverso la tanto attesa riforma fiscale. Grazie a tutti!